Come ti chiami? Leonardo Ianno E il tuo anno di nascita? 1985 Dove vivi? A Mendo, nel provincia di Forchimile della Romagna Descrivi un po' il tuo carattere? Sono una persona solare, determinata, so bene quello che voglio Il tuo più represo? Che sono una persona molto buona, diretto con le persone Qual è la critica che ti fanno le persone che frequenti? Sei troppo figo Che cosa non tolleri? Le bugie Quali sono le tue fobie? Il rospoi Cosa ti occupi? Vendo prodotti per parrucchieri Come te la cavi in cucina? Molto bene I tuoi valori personali? Molto, molto per la famiglia Qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare un grosso imprenditore Chi è il tuo idolo? Al Pacino Hai mai partecipato ai programmi televisivi? Sì Tu sarai il protagonista più seguito dal pubblico, dimmi perché? Perché sono una persona estremamente solare, determinata, che piace far vivere ciò che piace anche a me